buongiorno al dottor alberto ferrando presidente dell'associazione pediatri extra ospedalieri della liguria buongiorno buongiorno a lei tutti quanti allora per intervenire al medico risponde lo sapete potete scrivere un messaggio whatsapp a 347 67 66 291 oppure telefonare in diretta al numero verde 800 640 771 dottor ferrando non si può che partire da questa situazione di difficoltà di criticità con numeri che continuano a aumentare con influenza bronchioliti un po di covid questo mix un po infernale che era stato previsto ma che insomma adesso è arrivato qual è la vostra fotografia la situazione ma la fotografia personale è pessima perché hanno colpito anche me quindi nonostante sentirete anche la voce un po presa nonostante nonostante la mascherina aprire la finestra pregare di mettere la mascherina quando venite in studio io esaurisco degli stoppi mascherine perché dietro alla frase di tanto è finito covid tanta gente non si lava più le mani non mette la mascherina misure che sono utili non solo per la malattia covid ma sono utili per tutte le malattie che girano in questo periodo qui quindi la situazione è quella che abbiamo visto stamattina appare una relativa calma ma volte negli ospedali sapete che abbiamo il monitor delle attese e vedo che al gaslini ma anche nei grandi ospedali c'è meno affollamento del solito meno affollamento vuol dire sempre avere tra 70 80 persone nei grandi pronto soccorsi degli ospedali comunque di ora diamo anche due parole tranquillità le persone vero che c'è questa questa epidemia che è arrivata prima l'influenza di rapido più a lungo eccetera però è una situazione che si presentava anche gli anni scorsi in modo un po più attenuato quest'anno l'influenza picchia di più il respirato essenziale pure però siccome stamattina pensavo alle 3 a allarme allerta ansia a me quello che fa paura sono i danni indiretti di queste emergenze che se ben gestite non sarebbero tale perché dietro a queste situazioni si rischia di non dare assistenza a coloro che ne avrebbero più bisogno e parlo dei malati cronici di chi è affetto da qualche disabilità abbiamo un sistema molto molto fragile e la risposta deve essere trovata da chi gestisce insieme agli operatori quindi adesso vedo che si fanno delle per le festività si chiede la collaborazione volontaria dei medici di medicina generale io direi che dopo 40 anni oltre che lavoro di questa collaborazione volontaria la situazione dei pronto soccorsi è sempre stata così magari è qualcosina si può studiare di modo che la gente quando ha un bisogno di salute possa evitare di andare al pronto soccorso perché la gente mica contenta di andare al pronto soccorso ogni tanto leggo è che quasi a colpa di chi è malato di andare al pronto soccorso ma magari in certi periodi se ci fossero dei servizi sul territorio dove si fanno alcune cose faccio vedere una banalità questo lo uso dal 2020 che cos'è questo affarino è un ecografo del costo di più di 2000 euro che i medici nel proprio ambulatorio possono utilizzare e fare come vedete anche un ecografia abbiamo bisogno di ambulatori così non di mettere perché la soluzione nel passato parlo di decenni fa quindi la sciampia del presente nel passato quando la gente bugugnava si metteva un medico in una stanzetta e si risolveva tutto abbiamo bisogno di pronto soccorsi come venne detto dove si offrono prestazioni adeguate dei punti di accesso per coloro che non sono da pronto soccorso ma che non sa dove andare parliamo un po in genovese perché sabato domenica festivi e di notte dove vai se non al pronto soccorso che è sempre aperto h24 sette giorni su sette senta dottor ferrando cerchiamo di andare per punti anche perché molti genitori molti neogenitori con bambini molto piccoli sono diciamo molto preoccupati anche per la bronchiolite per diciamo queste sindrome influenzali che colpiscono i più piccoli allora ci sono delle indicazioni del dei campanelli d'allarme cioè quando è normale quando la febbre va bene quando invece ci si deve preoccupare ci sono delle indicazioni che possiamo dare un po a modalità di schema ma indicazioni a modalità di schema soprattutto per i più piccoli dico è dottor ferrando ma primo prevenzione che non è mai troppo tardi da ricordare da dare a tutti quando vedete una mamma con un neonato vuol dire un bambino sottomeso un lattante che è sotto l'anno evitate di alitargli in faccia di dire che bello carino prenderlo e volergli dare i bacini è una domanda che mi sento dire sa mi dispiace essere maleducata ma la vicina voleva prenderlo in braccio da libacini anche perché quando un bambino si è male abbiamo dei dati precisi che ci indica che un bambino sotto i tre mesi di vita con febbre è a rischio di complicazioni batteriche ancora più se sotto un mese in soldoni un bambino sotto i tre mesi che sia mala deve fare degli esami quindi deve essere portato in ospedale soprattutto sotto un mese esistono vari protocolli che i medici del pronto soccorso adottano quindi sotto i tre mesi di vita se un bambino presenta qualche cosa va avvisato subito il pediatra che vi consiglierà la visita o eventualmente già di fare degli esami o di andare al pronto soccorso anche perché il rischio di una complicazione batterica in corso di forme virali è molto alto in questa età e in tutti i soggetti fragili da qui la raccomandazione della vaccinazione altri criteri di preoccupazioni che può avere i genitori primo prevenita adesso a natale vediamo di farlo con i nonni però evitiamo di fare quelle feste da 50 persone locali chiusi o se volete invitare tante persone in casa fatele venire in casa e fate i turni col bimbetto piccolo che nei primi mesi di vita mangia ha bisogno di mangiare di dormire di andare di corpo e di essere coccolato ecco quando dorme lo lo mettete nella camera di la e chi lo vuol prendere in braccio glielo fate vedere da lontano perché dico questo da lontano perché perché mi sono ammalato alla gente sia mala perché chi ha queste forme virali e contagioso spesso prima delle manifestazioni cliniche quindi è sempre meglio con un neonato soprattutto avere molta molta attenzione a darmi i criteri di preoccupazione sempre validi io dico sempre le mamme la mamma ha sempre ragione perché chi conosce di più il bambino non è il problema la mamma la mamma a volte vede che il bambino ha qualcosa che non va me lo porta e magari io non trovo niente però dopo qualche ora o giorno riesce qualcosa mamme avete un sesto senso vostro figlio lo conoscete più voi di altri aggiungo oltre alle mamme lo conoscono il papà i nonni la mamma ha quel po di più che che la re la rende mamma se vedete vostro figlio diverso dal solito ma molto diverso ecco chi ha figli sa che magari c'è quel momento della giornata che è un pochino più nervosetto che è un pochino più stanco mogio o fa le bizze ma se lo vedete diverso invece di correre di saltare di arrampicarsi sui muri come il suo solito se ne sta fermo tranquillo guardando il muro beh magari iniziamo a pensare che o si sta per addormitare o c'è qualche cosa altri criteri di preoccupazione non è la febbre la metto per ultimo la prima situazione di di preoccupazione vedere il bambino diverso altra situazione di preoccupazione come respira perché la bronchiolite che è un bronchite broncopolmonite caratteristica del bambino piccolo però nel bambino grande può venire la bronchite ci sono in giro delle broncopolmoniti tante purtroppo è la difficoltà respiratori se vedete vostro figlio che respira male affannato respira come un cagnolino respira molto bascula cioè quando respira esce molto la pancia in fuori e il torace rientra se vedete che la frequenza respiratoria è alta in base all'età poi chiedete al pediatra perché nel bambino piccolo è superiore 50 60 nei grandi è meno se vedete che oltre a respirare affannosamente si infossa la fossetta del giugolo che a questa quando respira rientra a questo punto è indispensabile chiamare il il pediatra questi sono i criteri principali se ha la febbre a 39 40 e date l'antipiretico e in età pediatrica solo due paracetamolo ibuprofene non date cortisone non date aspirina perché fanno più male che bene se ha la febbre molto alta date l'antipiretico e tempo un'oretta vedete come sta non correte subito al pronto soccorso se ha solo la febbre un pochino più alta direi che scusi non lo volevo interrompere dottor ferrando prego no no ok direi che ha detto tutto allora ci fermiamo per una piccola pausa no c'è la telefonata prima pronto buongiorno pronto si prego e volevo parlare col dottore la sta ascoltando signora prego faccia la sua domanda signora prego scusi faccia pure la sua domanda che l'ottor ferrando la sta ascoltando la ringrazio e senta io volevo chiedere la mia nipotina che ha 12 anni le sono venute le mestruazioni il mese scorso ora da dieci giorni non le sono ancora venute le mestruazioni da circa dieci giorni ha continuamente un leggero mal di testa e volevo un po capire cosa può essere grazie signora grazie se non succede spesso che le mestruazioni nei primi periodi devono attraversare un periodo diciamo di rodaggio per cui possono venire più ravvicinate o ritardate e il discorso del mal di testa può essere legato a tante cause anche alla cosiddetta sindrome premestruale le cause però sono sono tante e vedremo nel tempo se ogni volta prima di avere le mestruazioni avesse mal di testa le potremo correlare con questo quando c'è un mal di testa io consiglio di scriverlo tenete un diario di modo che a volte arrivano sa è da sempre che ha mal di testa sempre è un termine un po vago da un mese da due mesi tre mesi di modo da cercare di inquadrare questo vale per il mal di testa mal di pancia tutti i dolori che si ripetono ora come ora io penserei magari è in sindrome per me tra un pochino le arriverà il ciclo comunque sentite anche il vostro medico se il mal di testa persiste ovviamente eccoci ancora insieme con il dottor alberto ferrando allora leggo un po dei messaggi che sono arrivati anche durante la pubblicità ho un bimbo di cinque mesi che da un paio di notti urla nel sonno con occhi chiusi fa fatica a calmarsi cosa può essere grazie alessandra sicuramente la dentizione faccio una battuta perché la dentizione siamo nel periodo e tutte tutti gli acciacchi dei bambini una volta venivano etichettati come dentizione come pediatra posso dire che a volte è ma non diamo tutte le colpe alla dentizione è un po piccolino però potrebbe avere dei cosiddetti pavor nocturnus cosa sono dottore sono degli episodi di incubi a occhi aperti a volte sono aperti a volte sono chiusi il bambino piange disperatamente a volte si dice occhi aperti sembra sveglio però non ti vede e la cosa può tirare da pochi minuti anche a decine di minuti e spaventano molto i genitori che alla fine svegliano il bambino bambino che non ricorda quando è svegliato anche il giorno dopo niente sono cose che è utile conoscere perché sono scene da esorcista ecco questo bambino che non si calma che cosa fare non svegliare il bambino ma stare vicino e anche se dorme parlargli dolcemente far sentire che la presenza c'è e aspettare che la cosa finisca chiaramente parlo in generale poi per il figlio della signora o nipote che ha chiamato se la cosa continua sentite il pediatra cosa potrebbe avere avesse male un dolore tipo male all'orecchio si sveglierebbe urlando veramente disperatamente perché quando hanno dolore il bambino lo manifesta senza ritegno con pianti inconsolabile in genere il mal all'orecchio è come la beffana viene di notte perché con la posizione distesa il flusso di sangue aumenta il dolore si può comparire o aumentare se già presente io avevo il bambino con la febbre alta ci ho messo tre giorni a contattare la pediatra mi chiedo ma dove sono i pediatri di una volta che venivano a casa perché ti chiedono di andare in studio con un bambino con la febbre alta i pediatri di una volta sono in pensione dottor ferrando è lì lì anche se nessuno vuole che vada in pensione il dottor ferrando ha un'età già da pensione ma veramente è un peter pan continua a lavorare indefessamente bene allora vuol dire che continuerà non c'è problema per tutti quelli che le vogliono bene diciamo questo fenomeno preoccupante una volta si diceva medico per sempre adesso se ne vanno in pensione prima smettono di lavorare c'è un qualcosa cambia tutto cara mamma ecco trovare un pediatra in questo periodo come colleghi ci sentiamo trovo dei colleghi veramente allo stremo perché i genitori giustamente cercano il pediatra non trovare il pediatra abbiamo come categoria ha fatto degli accordi per una reperibilità telefonica veramente lunga per cui il pediatra è reperibile al telefono è rintracciabile per lunga parte della giornata se ha trovato il telefono occupato succede come come alcun insista ecco e senta il pediatra riguardo alla visita domiciliare e alla visita questo rientra nel rapporto che ha con il suo pediatra quando mi chiedono dottore lei viene a casa per la visita io dico voi chiamate e decideremo se il bambino ha bisogno della visita sì o no se è utile sentirci faccio l'esempio vomito e diarrea iniziali visitarlo all'inizio è poco utile perché bisogna vedere l'evoluzione nelle prossime 12 24 ore così come una febbre improvvisa quindi sentitevi e poi il pediatra insieme a voi valuterà con vari parametri quando se vederlo subito risentirvi a domicilio o a casa o se la situazione è un'emergenza tipo sospetta delle convulsioni o il bambino è affannato indirizzarvi al pronto soccorso e in questi casi in genere il pediatra avvisa il pronto soccorso pronto buongiorno tanto buongiorno volevo chiedere una curiosità al professor ferrando volevo mi chiamo margherita avrà capito già volevo chiedere sempre valida una cosa che si faceva anticamente che quando un bambino aveva la febbre anche piccolino in camera riscaldata spogliarlo e mettere dei panni freschi al passaggio ossia dietro le ginocchia all'inguine e nel collo grazie e buone festa a tutti grazie grazie margherita grazie margherita grazie della domanda perché noi dobbiamo conoscere il ciclo della della febbre perché qui abbiamo i fautori alla febbre coprilo o alla febbre spoglialo allora dobbiamo sapere che quando viene la febbre nel cervello abbiamo un termostato come quello del calorifero che adesso frigorifero abbiamo freddo tutti in casa e mette 36 e mezzo quando abbiamo un'infezione il termostato gira e dice produce calore e metti a 38 gradi per produrre calore il nostro organismo se lo deve produrre rapidamente ai brividi e una freddo quindi quando sale la febbre se sale rapidamente e ai brividi in quel momento va coperto quando la febbre sale e da sola o con l'antipiretico inizia a scendere e avrete avuto tutti la febbre a volte dice freddo mi verrà la febbre penso viene quando la febbre inizia a scendere e la persona inizia a sudare in quel momento lì dobbiamo aiutarli a disperdere il calore quindi è giusto coprirlo quando ha freddo scoprirlo quando inizia a scendere la febbre mi capita di vedere dei bambini che hanno 40 appena gli spogli arrivano a 38 perché erano surriscaldati dobbiamo distinguere la febbre dall'ipertermia l'ipertermia cos'è il colpo di calore nel colpo di calore quelle cose terribili bambini ma che in quel caso lì bisogna bagnarlo metterli del freddo però se abbiamo una febbre da qualsiasi causa abbassargli la temperatura con mezzi fisici non si è dimostrato utile una cosa che facevamo facevo anche io addirittura una volta si usavano anche le spugnature di alcol per raffreddare la pelle però il termostato che abbiamo nel cervello che cosa fa è come se mettessimo calorifero al massimo e apriamo le finestre il termostato dice di produrre più calore il calore si produce nella zona che può dare più problemi aumenta la temperatura a livello del cervello nel bambino piccolo questo può favorire o causare le cosiddette convulsioni febbrili quindi rispettare il senso di benessere o di malessere della persona coprire quando ha freddo scoprire quando caldo dare l'antipiretico poi se fa piacere al bambino l'adulto una pezza tiepida o bagnata sulla fronte si può anche fare ecco evitate quelle manovre nei libri medicina una volta si metteva la persona in una vasca e mi si metteva il ghiaccio dentro pian piano ecco queste cose qui hanno un senso in altri tipi non di febbre di ipertermia particolari allora grazie al dottor ferrando ci salutiamo con questo messaggio faccio i complimenti a ferrando i dottori dovrebbero imparare da lui un vero dottore buona giornata già finito buona giornata è già finito siamo stati sommersi dai messaggi arrivederci a presto